Un altro venerdì con il Partito Democratico mobilitato per rianimare il servizio di guardia medica chiusa o depotenziata da nove mesi sul territorio provinciale. Dopo i presidi a Vallefoglie Gabice, servizi a serrande abbassate dallo scorso novembre, la mobilitazione si è spostata oggi a Pesaro e a Fano, dove dallo stesso lasso di tempo la guardia medica è aperta solo al weekend, concentrando anche il servizio alla popolazione delle aree rimaste senza presidio. Purtroppo questo delle guardie mediche è un problema serio perché è un servizio di continuità assistenziale che obiettivamente pensavamo non dovesse correre questa situazione. Si tratta di garantire le coperture di servizi di alcune decine di medici e in un ambito provinciale avere per tempo gestito questa situazione probabilmente non ci saremmo trovati in questa situazione. A partecipare alla raccolta firme anche il sindaco Matteo Ricci, firme che i cittadini possono depositare recandosi dal lunedì al venerdì alla sede PD di Via Salvatori. Senza la guardia medica dal lunedì al venerdì in questo presidio è veramente un problema perché come dire le persone che gravitano in questo territorio sono tantissime e si ritrovano a non avere un punto di riferimento. Questo comporta il fatto che i cittadini sono costretti a rivolgersi direttamente dal pronto soccorso andando ad intagiare il pronto soccorso che è già in una situazione veramente molto difficile. Il pronto soccorso che era stato annunciato mai da diversi mesi che sarebbe arrivato il nuovo personale, in realtà a parte di uno o due figure che sembrano dover arrivare, i numeri del pronto soccorso sono ancora molto insufficienti rispetto a quello che è il personale necessario e quindi occorre sempre di più un'iniziativa come questa per segnare il fatto che manca la guardia medica e questo è molto grave. Dall'altra parte voglio evidenziare però che purtroppo tutt'oggi ancora non è stato attivato il servizio delle USCA, cioè il servizio dell'assistenza domiciliare. Ricordo che fino a fine giugno erano attiva a livello regionale 19 squadre di medici che andavano a fare l'assistenza domiciliare in malati Covid. A tutt'oggi con il Covid che sta aumentando e le persone che sono sempre più costrette a rimanere in casa, le squadre delle USCA ne è stata attivata una su 19, quindi praticamente l'assistenza domiciliare non c'è più, infatti si stanno riempiendo i reparti nuovamente perché le persone sono costrette a ricoverarsi. Questo tema delle USCA è un tema molto delicato che vedo che viene sottovalutato ma ritengo che sia anche questo altrettanto importante. È una mobilitazione del PD che accoglie anche il consenso del Movimento 5 Stelle. Anche noi come Movimento 5 Stelle attraverso la nostra portavoce regione, Marta Ruggeri, abbiamo combattuto molto per risolvere questo problema. Crediamo che sia un servizio essenziale che non debba in alcun modo essere disperso ma garantito. In questo periodo è ancora più forte l'esigenza a causa dell'affluenza turistica, per fortuna nella nostra città, ma è comunque un'esigenza che è sempre presente per tutti i cittadini, quindi a tutti i livelli bisogna fare in modo che questo servizio continui ad essere garantito.